PICCUP Salve ragazzi, oggi parliamo di PICCUP Già da molto tempo sul mercato esistono svariati marchi che producono questo genere di prodotto in tutte le salse e in tutte le paste da un po' di anni a questa parte anche Fender si è lanciata sul mercato con una serie di prodotti molto invitanti come per voler combattere gli imitatori di un prodotto che fondamentalmente l'azienda, la casa sente veramente suo è come dire diversamente quelli che presenteremo adesso sono il top della serie che è la serie Custom Shop che fanno sia per telecaster, per stratocaster e anche per basso Faremo adesso una veloce panoramica per informarvi e parlare un po' di quelle che sono le peculiarità dei vari prodotti Abbiamo qui una rappresentazione dei PICCUP per stratocaster, i 69, i Texas Special e i 54 Parlando dei 69, questi sono dei single coil che io trovo molto rappresentativi del suo stratocaster degli anni 60 caratterizzati da un taglio sulle medie e da una bella rotondità sulle basse e da alti abbastanza pronunciati Un suono molto pulito, molto cristallino, molto brillante, veramente molto bello Mentre per quello che riguarda i Texas Special Sono i PICCUP che adorano i Bluesmen texani Non a caso sono quelli presenti sulla Steve Ray Vaughan Stratocaster E sono caratterizzati da una presenza delle frequenze medie molto molto tosta Per cui crunchano molto e per il Blues bello tosto, aggressivo sono veramente molteplicate Infine vi faccio vedere i 54 che sono quelli che sono tra l'altro i più vintage Che hanno il pick up al ponte con un output un po' più forte E sono adatti a chi adora il tipico sound vintage stratocaster Naturalmente c'è anche la serie telecaster che qui vediamo nella serie dei Texas Special Che come caratteristica timbrica sono praticamente la stessa cosa rispetto a quelli stratocaster E ci sono anche questi qua, i più classici no caster Che dire, se abbiamo intenzione di modificare, migliorare il timbro della nostra chitarra preferita Senza necessariamente stravolgerla o addirittura cambiarla Con questi prodotti abbiamo la possibilità di raggiungere dei risultati veramente eccellenti Senza spendere somme iperboliche Tutti questi prodotti sono presenti sul nostro sito www.acusticaonline.com Vi consigliamo di provarli con amplificatori degni della loro fama Come ad esempio questo fantastico Blues Junior Texas Red E che dire, buon divertimento E che dire, buon divertimento